Il treno intercity night 7, 7, 4, di Trenitalia, delle ore 9 e 08, per Trieste Centrale, è in partenza dal binario 2, invece che dal binario 1. Ferma a Monfalcone. Carrozze dalla 1 alla 2 in testa al treno, dalla 3 alla 4 centro treno, dalla 5 alla 6 coda treno. Su questo treno è disponibile il servizio letto e boccette. Il treno regionale 17, 3, 4, 2, di Trenitalia, proveniente da Trieste Centrale, è diretto a Udine, delle ore 15 e 20, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 16, 6, 1, 7, di Trenitalia, proveniente da Udine, è diretto a Trieste Centrale, delle ore 14 e 47, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 17, 3, 3, 8, di Trenitalia, proveniente da Trieste Centrale, è diretto a Venezia, Santa Lucia, delle ore 14 e 24, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Cormoz, San Giovanni al-Natisone, Manzano, Udrio, Udine, Coproico, Casazza, Bordenone, Sacile, Conegliano, Treviso Centrale, Mogliano-Belto, Venezia-Mestre. Attenzione! Stretto in arrivo al binario 5, via fare ovest, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 17, 3, 3, 6, di Trenitalia, proveniente da Trieste Centrale, è diretto a Venezia, sette ore 13 e 24, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 17, 3, 3, 7, di Trenitalia, proveniente da Udine, è diretto a Trieste Centrale, delle ore 13 e 21, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Attenzione! Invitiamo a non sostare lungo i percorsi tattili dedicati al passaggio delle persone con disabilità visiva. Il treno regionale 17, 3, 3, 7, di Trenitalia, proveniente da Venezia, Santa Lucia, è diretto a Trieste Centrale, delle ore 12 e 18, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Sagrado, Monfalcone. Il treno regionale 17, 3, 3, 4, di Trenitalia, proveniente da Trieste Centrale, è diretto a Venezia, Santa Lucia, delle ore 12 e 20, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Cormoz, San Giovanni al Matisone, Manzano, Ultrio, Udine, Codroico, Casarsa, Portenone, Sacile, Conegliano, Treniso Centrale, Mogliano-Vermuto, Venezia-Mestre. Il treno regionale 17, 3, 3, 4, di Trenitalia, proveniente da Trieste Centrale, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 16, 7, 6, 4, di Trenitalia, proveniente da Venezia, Santa Lucia, è diretto a Trieste Centrale, delle ore 10 e 09, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale veloce 38, 78, di Trenitalia, proveniente da Trieste Centrale, è diretto a Venezia, Santa Lucia, delle ore 9 e 43, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale veloce 38, 72, di Trenitalia, proveniente da Venezia, Santa Lucia, è diretto a Trieste Centrale, delle ore 9 e 18, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Sagrado, Mon Falcone. Attenzione! Si avvisa che dal giorno 15 gennaio 2024, per attività di manutenzione straordinaria, una porzione del manciapiede al servizio del binario 1. Lato Udine non sarà disponibile, per poter effettuare il servizio viaggiatori. Attenzione! Vietato attraversare i binari. Servirsi nel sottopassaggio. Si rammenta che è vietato aprire le porte esterne dei treni e salire o scendere quando non sono completamente fermi. Il treno Intercity Night 774, di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Trieste Centrale, delle ore 9 e 18, è in arrivo al binario 2, invece che al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Mon Falcone. Carroffe dalla 1 alla 2 in testa al treno, dalla 3 alla 4 centro treno, dalla 5 alla 6 coda treno. Su questo treno è disponibile il servizio letto e boccette. Il treno regionale 17321, di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretti a Trieste Centrale, delle ore 8 e 39, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Ferma in tutte le stazioni. Ferma in tutte le stazioni. Attenzione! Treno in transito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno storico della votazione è in presa 96, 5, 9, 6, alle ore 10 e 50, proveniente da Trieste Centrale, è diretto a Nova Colica, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Sono ammessi solo i viaggiatori uniti di biglietto a tariffa speciale. Il treno regionale. Il treno storico della votazione è in presa 96, 3, 6, 0, proveniente da Trieste Centrale, è diretto a Osoppo, delle ore 8 e 57, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale. Sono ammessi solo i viaggiatori uniti di biglietto a tariffa speciale. Il treno regionale 17351 di Trenitalia, delle ore 16 e 49, proveniente da Udine, è in arrivo al binario 3, invece che al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 166367 di Trenitalia, proveniente da Udine, è diretto a Trieste Centrale, delle ore 17 e 39, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale veloce 3854 di Trenitalia, proveniente da Udine, è diretto a Venezia, Santa Lucia, delle ore 17 e 43, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 99164 di Trenitalia, proveniente da Saccise, è diretto a Udine, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 99160 di Trenitalia, proveniente da Monfalcone, è diretto a Saccise, delle ore 16 e 50, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale veloce 3402 di Trenitalia, proveniente da Trieste Centrale, è diretto a Venezia, Santa Lucia, delle ore 15 e 43, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 16365 di Trenitalia, proveniente da Tavisio Bosco Verde, è diretto a Trieste Centrale, delle ore 15 e 39, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. le stazioni. Anche una linea gialla. Allontanarsi dalla linea. Allontanarsi dalla linea gialla. Anche una linea gialla. Grazie.